Sindaco Marco Pasquali, è stato detto tante volte l'occasione per il rilancio, tante iniziative in pista, si parla di una fondazione, si parla di un brand di fatto che viene rivisto con caratteristiche filologiche direi più accurate, insomma Sabionetta si rilancia anche come polo tra Vanto e Parma. Sì, è una giornata importantissima quella di oggi in cui presentiamo il tanto lavoro fatto in questi mesi di chiusura, è un lavoro importante che tocca tutti gli aspetti del turismo locale, dalla riorganizzazione, della gestione, quindi la nascita di una nuova fondazione con l'anno 2022, alla revisione di quella che è tutta la comunicazione a livello locale, nuovi social network, un nuovo portale internet, nuove immagini, una nuova comunicazione, un film che uscirà nei prossimi tempi su questo tema e tutto questo è stato fatto partendo da ciò che avevamo già. Quindi dalla storia di Sabionetta, dai suoi rapporti con la Mantua, con Zagesca e con la Parma del Cinquecento e riscoprendo appunto questi legami, questi rapporti fondamentali per noi che portano a nuove collaborazioni, allo sviluppo di sinergie fra la nostra città, quella di Mantua e quella di Parma e quindi tanto lavoro che è stato fatto, tanto lavoro che resta da fare ma finalmente oggi Sabionetta si presenta agli occhi del visitatore, agli occhi del turista come nuova, rinnovata, moderna e capace di accogliere ed attirare tanti tanti visitatori più che in passato. E se Ozzani le chiedo, dato che ha parlato giustamente della nuova fondazione che di fatto nasce nel 2022 effettivamente, se ho capito bene, qual è il cambio di passo che può dare una gestione diciamo di questo tipo? La creazione di una fondazione di partecipazione è la creazione di uno strumento così come è già stato fatto per altre grandi istituzioni culturali e museali, pensiamo al Museo Egizio, al Maxi, al Magri di Napoli, uno strumento che ha lo scopo non solo di custodire e valorizzare il patrimonio come proprio delle fondazioni, ma anche di creare un momento di incontro, confronto e crescita tra tutti i soggetti pubblici, privati, le forze economiche, istituti di credito, altre fondazioni, che siano interessati e disponibili a dare qualcosa. Anche gli sponsor, quando vengono fatti partecipare già al momento della progettazione, danno un apporto molto più prezioso e molto più duraturo di quanto non sia la mera e l'allargizione di denaro. Insomma la carne, io le chiedo una, questa, chiamiamolo io, lo chiamo falso storico, perché abbiamo sempre detto sabionetta piccola Atene, in realtà è sabionetta novella Roma, lo scopriamo adesso dopo 500 anni, come, cosa può dirci? No, non è stata una durata di 500 anni, è un'invenzione di uno storico tardo ottocentesco, novecentesco, pseudo storico, che ha definito così la cittadina, che non ha un minimo requisito per essere così definita, mentre invece basta osservare, per esempio, questo teatro per comprendere come tutto parli di Roma. Le stesse scritte, voluto da Vespasiano, celebrano il mito della città eterna. Certo, grazie. Sì, sì, c'è un passaggio che mi ha colpito e che è questo rilancio nel futuro di sabionetta, come c'è già stato per Mantova, però guardando al passato, a una ricerca attenta, direi filologica, no? Quando si crea un brand, anche la scritta, come viene scritta la parola sabionetta, il colore, c'è proprio una ricerca, c'è la storia che insegna a guardare al futuro, possiamo dirle così. Esatto, cioè il nostro compito deve essere sempre quello di studiare e di trovare nel luogo dove operiamo, e sabionetta è ricca di valori, di trovare gli elementi che già sono parte della storia di sabionetta e del racconto. Il racconto, quindi, è un racconto, diciamo, originale, fatto con il linguaggio di oggi, ma basato sulla precisione degli elementi del passato. Sabionetta ha molto da raccontare, sia per le famiglie che per i giovani, per gli studenti, e deve aprirsi. I reperoprisi deve diventare contemporanei nel modo comunicare. Certo.